Quali sono le qualità che deve avere in primo luogo un'ostetrica? L'ostetrica deve essere sicuramente empatica e deve aiutare a tirar fuori quello che le donne già hanno e quello che le famiglie hanno, quindi è la professionista della maieutica, quindi ripeto del tirar fuori. Il senso di questa iniziativa sicuramente è far conoscere la nostra figura, di vulgare e promuovere l'importanza dell'ostetrica per la comunità e non solo per la donna, quindi non intesa come la professionista presente durante il parto, ma anche come la professionista presente in tutto l'arco della vita della donna e della famiglia, quindi dalla nascita alla menopausa. Sicuramente è la professionista della salute e della salutogenesi, è la professionista che oggi viene celebrata in quanto figura di riferimento e vogliamo che sia di riferimento per tutte le donne che hanno bisogno, così come sono state di forte, come fulcro sono state le ostetriche durante questa pandemia, devo dire grazie a tutte le ostetriche della provincia che si sono offerte per creare una rete di aiuto per le donne che non hanno potuto avere un riferimento durante la pandemia. Ci siamo adoperate e di nuovo grazie a tutti coloro che oggi verranno e che hanno partecipato a tutte le iniziative in questi anni.